Carissimi ascoltatori e ascoltatrici di Radio Stab, buongiorno e un carissimo secondo a te, Stefano. Incominciamo in questo breve intervento nell'ambito del ricorso vivo, con il Gran Premio di Chiesi Tristurato ieri negli Stati Uniti. Finalmente, dopo due mesi di sofferenze più bassi che alti, la Ferrari è tornata a trionfare in un Gran Premio valido per contattarci con il Provo 2018. Non ha vinto Vestel, che purtroppo ancora una volta mi ha sbagliato, però finalmente, dopo il 93, il 90esimo Gran Premio con la Ferrari al ritorno del Ferraro dal 2014, Raikkonen ha finalmente accettato la vittoria. Mi fa piacere, ha vinto la Ferrari, ha vinto Raikkonen, però scusate, c'è un po' di raucetine, parlo un po' male. Però ecco, Raikkonen è quello di ieri, concreto, anche in prova è arrivato secondo per pochissimi millesimi, però c'è la partenza, una stupenda partenza, ha abbessato Edmonton, lui è partito male, veramente ha cercato di chiuderlo, però ecco, Raikkonen, lo dicevo, concreto, sicuro, non ha sbagliato nulla, dalle prove, dalle qualifiche, fino al traguardo, veramente un Raikkonen irriconoscibile. E questo fa ancora più male, perché erupestato con la macchina molto, francamente superiore alla Mercedes, il mondiale era a portata di mano. Purtroppo non è stato così, colpa della gestione dei Ferrari, colpa di Vettel e colpa anche di Raikkonen che in alcune occasioni, invece di aiutare il compagno di squadra dopo le vittorie iniziali, dopo che era avanti nel punteggio, era una cosa che doveva fare, che purtroppo Raikkonen si è rifiutato e poi vi è giusto il successo e a forza il comunicato che in un'altra parte veniva sostituita la giovane Leclerche ed ecco che è andato in tutto il valore. Peccato, dispiace, come ripeto, è un volere a compiare perché Vettel e Poteva veramente vincendo tranquillamente. Vettel e nuovamente già forse nel tuo sito, dalle tre posizioni molto discutibili, dalla qualifica combinata in persona tutta con le prove, le posizioni indietro, una qualifica veramente una penalità che si poteva veramente non combinare. Ieri Hamilton in alcuni frangenti ha fatto delle infrazioni e come al solito, soprattutto all'ultimo giro, quando è uscito ampiamente fuori vista con tutto e qua con le ruote, però nessuna penalizzazione, nessuna qualifica. Il mondiale dice questo, la penalizzazione dice questo, accettiamo tutto. Però peccato che Vettel, come stavo dicendo prima, forse nel continuo da questo fatto non è riuscito a partire, a fare la pole position che gli consentiva di partire con qualche posizione davanti, si è fatto prendere, si fa prendere troppo dalla fuoca, già si continua, si è toccato con Ricciardo che poi, guarda caso, si è visitato, perciò è stata una doppia finalità per Vettel, il filo quattordicesimo ha rimontato fino al quarto posto, anche per l'errore finale del consumo eccessivo di gommi da parte di Potters, ha chiuso quarto, ha solo rimontato una settimana la chiusa del mondiale, adesso mi scoglio per sempre che fatti un settimo posto per anche una vittoria virtuale di Vettel per essere campione mondiale. Nell'ambito del Gran Premio è eccezionale secondo me, anche perché è un pilota che vi soddisfa tanto nella grandissima rimonta di Versappel che ha chiuso secondo partendo dalla quindicesima casella. Il mondiale si diciamo che Hamilton non può più perdere, ci voleva per rimanere più speranze, un ritiro, un non prendere punti ieri di Hamilton e con l'eventuale vittoria di Vettel. Comunque, è solo rimandato, Hamilton si infringerà, si infringerà del quinto titolo mondiale, raggiunge Fangio in questa speciale classifica. Il mondiale torna domenica prossima, subito abbiamo il terreno del Messico e sul circuito intitolato Federico Diquetz che hanno corso entrambi con la Ferrari in Formula 1. Sono stati studiati 19 edizioni e con vari periodi, abbiamo prima da 69 a 70, poi un salto dall'86 al 92 e poi abbandonato e stato ripristinato dal 2015. La Ferrari ha avuto due vittori, due pole e giri veloci. L'ultimo successo rimane quello di Alain Frost nel 90. Lo scorso anno Vettel aveva avuto pole position e giri veloci. è un circuito nuovo, moderno, non si possono fare i passi, è un bel circuito anche molto tecnico. Stefano, che dobbiamo dire? Abbiamo avuto ieri, passando dalle quattro alle due ruote, il nuovo, l'ennesimo titolo mondiale per Marquez. Peccato per il dovizioso che almeno meritava, dopo quello che ha fatto, dopo la pole, meritava veramente almeno in poche perché proprio ieri contro Marquez in questa forma c'è poco da fare, è diventato un grandissimo pilota e merita veramente il titolo e il titolo che ha conquistato qui da adesso. Stefano, io concludo così, scusate, riparisco il tuo, scusate per la mia influenza, comunque un saluto a tutti, ciao Stefano, un saluto al professor dello staff, ci sentiamo lunedì prossimo per il Tiantopi Campione del Messico. Sempre Forza Ferrari, speriamo di chiudere almeno, non corrispondiamo, che non è impossibile, ma almeno con delle buone investazioni e corretto di soddisfazione. Ciao a tutti, grazie.